giovedì 1 settembre alle ore 21 su tfn nuovo appuntamento con antologia reporter dal titolo luigi leonardi una vita per la fotografia vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda 50 anni di click per raccontare la città attraverso le immagini il lavoro certosino di luigi leonardi fotoreporter di lungo corso a reporter leonardi aveva 14 anni quando si è avvicinato per la prima volta all'affascinante mondo della fotografia una vita trascorsa tra rullini camere oscure negativi flash e pulsanti di scatto un mestiere tramandato da padre in figlio oggi vincenzo e sulle sue orme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti